Ok, Rhodesian, Ridgeback, Dalmata, Beagle, Ardesien, Bassettown. Ok, abbiamo qua il Rhodesian Ridgeback, il Dalmata, Beagle, L'Arte, Cien, L'Arte, Cien, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché se no la telecamera non vi riprende. Allora, al terzo posto l'Ardesien. Al secondo posto il Beagle vince il Rhodesian. Allora, al terzo posto l'Ardesien. Allora, al terzo posto l'Ardesien. Allora, al terzo posto. Allora, al terzo posto.